Nel nome della rosa, di Inverto Eco, come finisce il nome? Comincia di averlo letto molti anni fa in questi strumenti. Il fu Mattia Pascal, di Luigi Finandello. Quale nome sceglie Mattia Pascal per la sua seconda identità? Non ricordo giù, anche questo ho letto. Devo aver letto con molta disattenzione. La coscienza di Zeno, di Italo Svevo, come si chiama la mamma? Madame Bovary, di Gustav Flaubert e Anna Caregna, di Lev Soyo. Come si suicidano le due protagoniste di questi due romanzi? Io non ho paura di Niccolò Amaniti, che soprannome dava Michele la sua bicicchetta? Il quadrice da Vinci di Dan Brown, in quale chiesa di Parigi si svolge una parte della vicenda? Mrs. Dalloway, di Virginia Woolf. No, non lo conosco. Grazie. Grazie a tutti.